Debutto al San Vito con il gol, un ambiente caldo come il Sud America. Sì, assolutamente sì, è stata una bella emozione, c'era un bel ambiente, insomma, c'erano tutti i requisiti per partire bene. Come hai trovato il San Vito, come hai trovato Cosenza e come trovi questa squadra? Bene, 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 gli impatti sono tutti positivi, speriamo di continuare su questa falsariga. Senti, tu da esterno ovviamente ti piace fare gol, ma il tuo ruolo è reale? Davanti posso giocare un po' dappertutto, non ho problemi in questo, dove mi dici di giocare all'allenatore e gioco. Senti, come lo avevi questo Cosenza? Bene, 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 piano piano stiamo cercando di assemblare tutto, è normale, siamo all'inizio, manca ancora molto, però siamo a buon punto. Prima di fare gol hai avuto un'altra occasione, forse hai tirato un po' troppo debolmente, pensavi a cos'altro? No, sicuramente ho tirato molto debolmente, quindi in conseguenza sarà difficile segnare così. Tu di solito non è che fai tanti gol, ma quest'anno vuoi sfatare questo mito? Eh sì, ovviamente ne ho fatti mai tantissimo, una volta solo in doppia cifra, però piano piano è importante il risultato della squadra, poi arriva il singolo. Una reddica del gol che qualcuno vuole fare? No, 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 la squadra che ci siamo meritati questa vittoria. Grazie.